Scusa se sono un po' duro, freddo, ma cerco di essere logico. Prima avevamo saltato tutto un pezzo nella scena della coppia mia. No, facciamo la capa, facciamo la capa. Facciamo stare, facciamo la capa, scusate. Sì. Mi ha fatto i due. No, mi ha fatto i tre. Adesso è arrivato il momento in cui dobbiamo decidere cosa fare, dobbiamo cercare di essere onesti con noi stessi. Tu sai quello che vuoi? Sì, ma quello che voglio io è legato a quello che vuoi tu. È una storia che apparentemente è violenta, scurrile, forte. Non ti far far male, per favore. Non mi faccio male, però tu ti prego. Ah, poi, non mi faccio. Eh, c'è la mia. No, non mi fai male. Ma la realtà è che dietro c'è una tragedia devastante. tra questa coppia. Una tragedia che li ha completamente lacerati, straziati. I nostri problemi hanno a che fare con la complicazione. La lacerazione è così profonda che è impossibile da recuperare. E allora perché mi fanno male? Perché adesso sei uccita! È la storia di due esseri umani che devono affrontare una tragedia. E allora faccio ho pensare anche l' wahè Definitely Right. E allora faccio.